Nel 79 a Napoli dalla Juventus con il gol decisivo di Causio ai tempi supplementari. E allora leggiamo le formazioni delle due squadre. Inter con Giulio Cesar in porta, Nagatomo, Lucio, Ranocchia e Kivu in difesa. Zanetti, Tiago Motte, Stankovic a centrocampo. Recuperato Snyder che gioca a ridosso di Pazzini e Dietò per il Palermo. Sirico in porta. Intanto vediamo il presidente rosa nero Maurizio Zamparini. In difesa Cassani, Mugnoz, Goi, proprio dall'Uruguagliano. Poi lì c'è Hernández, Hernández, Sessuolo, Hernández il destro. Collone sull'esterno della rete. Prima opportunità per il Palermo dopo 50 secondi. Un partito direi molto bene il Palermo che naturalmente deve giocare in velocità per cercare... In profondità cercare lo scatto di Pazzini, posizione regolare, Pazzini, Pazzini, Pazzini. L'uscita di Sirico che blocca a terra. Sospirone di sollievo da parte dei tifosi del Palermo. Ora per Pastore, prova l'1-2 con Ilicic, Pastore è solo. Pastore si allunga il pallone, esce Giulio Cesar. Che occasione sprecata dal talento argentino del Palermo. Che occasione ha avuto il Palermo, signori. 1-2 cercato con Ilicic, ancora... Nel disimpegno dell'Inter, Pastore è il sinistro. Collone fuori. Direi che in questi primi minuti abbiamo visto solo Palermo. Naturalmente clamorosa l'occasione che si è mangiato prima Pastore. Il pallone per Sneijder. Alto. Ecco vedi, da un errore di disimpegno da parte di Munoz nei confronti di Acqua. Può giocare l'Inter con Sneijder in verticale per Eto'o e solo Eto'o da anche Sirico. Eto'o, Eto'o, Eto'o. L'Inter in vantaggio. Al 26esimo, la zampata del Leone. Indomobile, Samuel Eto'o, gol numero 36. In stagione ha raggiunto il suo personal record di quando giocava al Barcellona. L'entusiasmo dei tiposi dell'Inter. Sorpresa la difesa del Palermo. Assolutamente sorpresa. Dell'area di rigore si ferma Ilicic. Di fronte a Seranocchia. Pallone morbido dalla parte apposta. Colpo di testa di Balzaretti. Sul fondo. Comunque è un ottimo Palermo, possiamo dirlo. Si è sentito defraudato. Ha dominato. La squadra perde il possesso del pallone. Anche perché è stata lasciata palla scoperta. Sneijder che prova ora la conclusione. Pallone che sorvola la traversa. Sì, due centivo. Il cross di Cassani. Il colpo di testa mancato da Nocerino. Balzaretti ancora lui. Respinge Zanetti. Poi Pastore. Acqua prova il dribbling. Abbattuta il volo di Giulio Selser che salta. Un gol che sembrava fatto sulla conclusione di Hernandez. Quante emozioni. E qui il Palermo avrebbe meritato il gol. Guardate quante indecisioni da parte della difesa dell'Inter. Prima va a saltare Hernandez. Non la prende. Tira successivamente. Zanetti. Stankovic. Ancora ci prova Stankovic. Pallone sul fondo. Hai fatto bene a sottolinearlo. Complimenti alle due squadre che non si stanno risparmiando. Kivu. In anticipo Hernandez. Hernandez di punta. Blocca Giulio Selser. Un altro cupero. In scivolata di Nagatomo. Va a terra. Pazzini. Finisce il primo tempo. E finisce il primo tempo. 1-0 per l'Inter. Il gol al 26esimo. Di uno straordinario. Samuel Eto'o. Ottima. Se come Eto'o. L'Inter che ha giocato più di esperienza. Che ti continua. Nelle file dell'Inter. Ma si attende l'arrivo dell'allenatore. È cominciato il secondo tempo. Ne approfittiamo per rileggere le formazioni delle due squadre. Giulio Cesar in porta. Nagatomo. Lucio. Ranocchia. Chirca. Il colpo di tacco per Hernandez. Balzaretti. Blocca Giulio Cesar. E il Palermo ricomincia. Da lì. L'avversario a Cassani. Prova il destro. Pallone sul fondo. Devo dire che sì. Pastore. Pastore dai 20 metri. Prova il destro. Pallone sul fondo. È un grande Palermo. Lo attacca Ilicicciano. Nagatomo. Il cross verso Pazzini. Il colpo di testa di Pazzini. Pastore. La progressione di Pastore in avanti per Hernandez. Un scito di Giulio Cesar. Hernandez. Hernandez. Giulio Cesar. Riesce a fermarlo. Taglio Rossi scatenato in panchina. Quante emozioni. Bellissima la palla di Pastore. in profondità per l'avversario. Pastore. Il cross per Miccoli. Posizione regolare. Il colpo di testa. Il volo. Il volo di Giulio Cesar. Che valota. Ancora una volta di Giulio Cesar. Che salve il risultato. Grandissimo intero. Numero Ilicic. Colpo di tacco per Cassani. All'indietro. Miccoli. Miccoli. Il sinistro. Respinto. Pastore Hernandez. Libero a TV. Che azione nell'area dell'Inter. E ancora non è finita. A terra. Ora Migliaccio. Calcio di punizione fischiale per Nocerino. Cerca il colpo di tacco per Hernandez. Fuori. Ecco qui è stato precipitoso Hernandez perché non ha visto alle sue spalle l'inserimento da parte di Ilici. Balzaretti converge verso il centro. Carica il destro. Prova la conclusione. Pallone sull'esterno della reta. Chiede il calcio d'angolo. Naturalmente l'arbitro non glielo assegna. Inter è pericolosa ora proprio con Eto'o. Eto'o è solo davanti a Sirico. Eto'o. 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 Il destro. 2-0. Inter. Per il trentunesimo del secondo tempo. Samuel Eto'o. Ancora un'indecisione della difesa del Palermo. Adesso in una sola stagione sono 37 gol per Samuel Eto'o che stabilisce il suo nuovo record personale. Cala il sipario su questo straordinario giocatore qui inquadrato. Tutto il pubblico in piedi applaude meritatamente. Quello che non deve fare il Palermo, vedete, perde palla. La difesa sarà tutta qui. Il cross intanto di Miccoli, pallone in mezzo, colpo di testa. Tentato. Prople a via Zanetti. Mille e tre partite da professionista. Decima finale di Coppa Italia. Sleider. E il volo di Sirico che salva il 3-0. Tre protagonisti. Zanetti in primis. Guardate a 38 anni cosa è stato capace di fare. Ha quasi tutto. Pallone in profondità per lo scatto di Balzaretti. Il pallone. Calcio d'angolo battuto da Miccoli. Pallone in mezzo, colpo di testa. E' segno al Palermo. Si riapra la partita. Si riapra la partita. Con il gol che è stato realizzato da Mugnoz. Il gol al 43esimo minuto. Due più recupero a disposizione del Palermo. Delle Rossi scatenato. Verso il quarto nuovo tagliavento. Che è successo? E' andato subito a chiedere il recupero. Ha detto adesso voglio vedere quanto recupero darete. E' per me pare che tagliavento gli sta indicando di andare. La situazione sarà quella di una... Parte Eto. Traversa. Ancora Eto. Stava per segnare il suo gol numero 38. Record stagionale sarebbe stato in Italia. E' Italia. Eto ci riprova. Blocca Sirigu. Eto. Dunque un paio di errori importanti in questa fase da parte degli arbitri. Vandev centralmente. Lo spaglio al principe. Il titolo. 3-1 per l'Inter. E anche quest'anno come nella stagione scorsa. Lo zampino dell'attaccante argentino sulla Coppa Italia dell'Inter. Al 92esimo. Inter 3. Palermo 1. Aveva riaperto la partita il Palermo. Con Nicola. 5 minuti della fine. La richiude Milito con il suo inserimento su Crofty Pander. Ecco. Sono contento francamente. Te lo dico per Milito. Che quest'anno ha passato da... Per l'espulsione che in pratica ha un po' deciso la partita. Continuando. Cipato da Migliaccio. Finisce qui. Tripudio. Nero-Azzurro. Allo Stadio Olimpico di Roma. Magari non sarà un triplete prestigioso come quello dell'anno scorso. Ma una Supercoppa italiana. Il mondiale per club e adesso la Coppa Italia rappresentano comunque uno splendido bottino per l'Inter. Soprattutto alla fine di una stagione non facile. Una stagione complicata che si chiude però con la Coppa Italia. Ma lo ripetiamo. Onore delle armi a un Palermo che ha messo il cuore, il coraggio, la determinazione e che non è riuscito a battere un avversario che ha giocato.